Ragazzi, webcam diversa, perché l'altra si è rotta, quindi passo indietro con la qualità. Però, a proposito di bassa qualità, oggi abbiamo un gioco che si chiama Battlegrounds 3 e devo dire che di qualità è ancora peggio di questa webcam, ragazzi. Quindi, davvero, stiamo attenti, andiamo dentro. Allora, find server, server rules, have fun. Ho paura che non rispetterò le regole. Cioè, guardate quello lì, un povero, un uomo distrutto dalla vita. Che cos'è? Ma, ma che, ma che bracino minuto? Che, comunque è un bracino minuscolo, veramente. Sembra che si fassa delle seghe, vabbè. Yonuub. La bandiera che svolazzava, vabbè. Che casino! Fino, russi anche. There's some friendly fire. Can I kill friends, guys? Guarda, si fa un rassone, vabbè. Ma tu, guarda questo qui! Ma che faccia, eh? Sembra abbia visto un pene. Non sbatte nemmeno le palpebre. Cioè, così. Così. Ecco, si è appena mostro. Guardalo. Questo quasi è fatto di qualche fungo strano, eh. The 66 are up, but half of them are only turned off. Please, guys, shut the fuck up. For the, uh, for the memes or up. Ma cos'è sto gioco? Perché questo qua è nudo? Va bene, o che non facciamo t' domande? I'm not following the rules because I'm having not fun. I have to be fun because I haven't, I have not fun. Sì, ma ho solo un col... Ma che palle! Ma ho solo un colpo, st'arma di merda! Dove di ricaricare ogni colpo con sto braccino mingerlino. Poi la mappa è minuscola, ha già quasi more invisibile. Ma che merda è? Non spararmi! I'm not following the rules, guys. I'm having not fun. I have to be banned for this. C'è sembra be a visto un drago, c'è cos'è? Rush B, Rush B! Rush B! Ha detto Rush B! Ha detto Rush B! Dove siamo su testi sego? Ha detto Rush B! Rush B! Rush B! Guys, yeah, Rush B with P19. Rush B, suca! Suca, bled, Rush B! A caso! Suca, bled! Ma guarda come si muove, già così, senza muovere un muscolo, così tranquillo, con una faccia impassibile. Poi dopo muore così, ma che merda è? Oddio, si può vedere. Please don't use drugs, man. C'è, guarda, così tranquillo. C'è, ma un bambino che ha visto un... C'è, non so neanche come spiegarlo. Lick and lick, tutto fatto. E' che si fa i rasponi, tutto fatto. Che guarda il nulla cosmico. Ma hanno tutti i 13 anni questi, questi, questi tizi che vanno in guerra? Tutti i giocatori di Fortnite, vorrei capire. Ma cos'è? Guarda! Ma sto qua è appena uscito dal... Cioè, è stato appena partorito. È appena uscito dal grembo. Ha imparato a camminare due settimane fa, dai, ma che cos'è? Ma sto qua, questo qua andrà in... Andrà all'asilo, questo qua. Oddio, gli hanno sparato nei coglioni. Oddio, sta... Ricarica mentre ero morto, ma cos'è? Sotto il mondo. Ma dove sono? Ho visto l'infinito. Ma io, io mi domando, perché la gente gioca a questi giochi qui? Ma fa cagare! E tu devi morire. Ah, è morto malissimo, una spaccata ha fatto. Ma poi ancora 20 minuti. No, per favore, disconnettiti. 20 minuti è un quanto dura. Ma è orribile. Grafica schifosa, modelli da bimbo 13enne che si fa i rasponi. Seven rules, have fun. Mi sa che ho già infranto le regole e continuerò ad infrangerle. Beh, ovviamente qua c'è un altro tizio che... Fa robe strane nel microfono. Ma che cazzo è successo? Guys, kiss my feet for king and country. Fur Hessem! Arriva il tedesco. Vabbè, ma sto 13enne che si fa di droghe, cioè... Non so, batte nemmeno un ciglio! Mi tranquillo, fi immobile, una statua di cera! Certi funghi possono fare male, eh! Se fossi il fuoco amico sarebbe un gioco fantastico. E' fantastico! Piss off! Shut up, please! No, shut up you, fucking Russian! In my ass, for king and country, for freedom! Stalin will get you fizzy, you bitch! Ma perché? You have a fucking gay voice! Do you like sucking cocks, you bastard! You bastard! Piss off, Caleb e noob! You noob! Un aim effect! Caleb noob! Caleb noob! I'm not from France, man! Please, try again! Cable noob, a name effect! Clean my feet! For king and country! For freedom! Let's try! Dai, ma è orribile come gioco! Ma fa cagare, ma c... C'è solo una modalità in questo gioco! Ed è sta merda qui di cattura la band... Non lo so, di cattura la bandiera... Ma cosa su cosa sta succedendo? Perché il nostro visuale me la riporta dove era... Ma che c... Non posso né bovermi né spostare la visuale! Ma perché? Cosa sta succedendo? Dai, ma vai a cagare! Ma che schifo è? Tutto buggato! Tutto buggato! Io... No, ma levati dai coglioni! Levati dai coglioni! Ragazzi, io non so cosa dire... Il problema di questo gioco... Non è più che altro il gioco... Sono le regole! Sono le regole! Il problema sono le regole! Ci sono delle regole che non possono essere rispettate! Perché tra queste regole c'è... Have fun! Secondo le regole tu devi divertirti! Se non ti diverti, vieni bannato! E tutti dovrebbero essere bannati! Perché il gioco non è divertente! Quindi se non ti diverti, tu devi essere bannato! E quindi il vero problema non è il gioco in sé! E sono le regole! Perché non puoi divertirti! È una regola che nessuno al mondo è capace di rispettare! Di eseguire! No, vabbè, a porto degli scherzi questo gioco è una merda! Lasciate like se non vi è piaciuto il gioco, iscrivetevi per rimanere ragionati i prossimi video e condividete! Spero di tornare alla vecchia webcam il più velocemente possibile! Ciao a tutti! Spero di tornare alla vecchia pubblica!